La disciplina indiana presentata dal maestro, dal guru Shabad Singh parliamo di un'antica disciplina derivata dalla regione dei Sikh è considerato uno dei più importanti esperti di Ghatka l'ancien indian disciplina che influisce nella religione di Sikh è un grande piacere di averlo con noi oggi e per favore un grande applauso per il guru Shabad Singh vi ricordiamo che le telecamere che state vedendo in questo momento sono telecamere Rai e Tilo 7 la nostra rubrica televisiva della televisione di Stato sta riprendendo la manifestazione in modo particolare il World Martial Arts Show anche il Buchenne Sky offre il Marshall Arts Show avrete modo sul sito federale poi di verificare tutte le messe in onde per seguire le immagini di ciò che avete vissuto in questi spetti di giorni intanto lasciamo il gruppo del Ghatka nella sua concentrazione prima dell'esibizione signori, il maestro, il guru Shabad Singh grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.